bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video al prossimo canale, oggi ragazzi è un po' spartita di Juventus Antalanta la Juventus purtroppo ha perso per 1 a 0 e sono molto molto triste e arrabbiato per tanti motivi mi raccomando prima di questo lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale attivate a canale, perdete male a me, partiamo dal fatto che per tanti mesi l'obiettivo sarà rimanere nei primi quattro posti poi piano piano verso più o meno non lo so, marzo possiamo puntare più in alto, ovviamente raga prima dobbiamo pensare al quarto posto, dobbiamo pensare a non scendere troppo e a fare bianco raga, a fare tutte le vittorie contro rispettivamente Salernitana, Genoa, Venezia, Bologna e Cagliari qua ci vorranno almeno 15 punti, vincerle tutte, tutte per così salire almeno 36, se facciamo un po' di calcolo il Napoli sarà almeno 39-40, il mio penso che sarà anche sui 44, l'Inter sarà sui 38, non lo so, sto ipotizzando l'Atalanta sarà sui 36, la Roma sarà sui 35, la Lazio sarà sui 29, no no va bene no, la Lazio no la Lazio sarà sui 33, la Fiorentina sarà sui 28, la Juventus sarà sui 36, quindi secondo me entro entro, vediamo un po' quando finiscono, entro raga entro il 22 dicembre saremo tra le prime quattro proprio attaccati e poi piano piano proveremo a fare l'impresa cosa impossibile per l'ora però lì sarà un video molto serio, sempre la Juventus ma sarà un video buono più che altro buono ma aspetta non so dire, motivazionale, sarà un video molto bello per me e per tutti voi spero e dirò tante cose importanti che adesso non voglio dire, ma tu sai che sento prima la prima partita ragazzi questo risultato secondo me non è giusto perché la Juventus meritava almeno il pareggio perché l'Atalanta di 6 occasioni ha avuto 2 o 3 mentre la Juventus sappiamo difendere indecentemente ma non sappiamo segnare, raga non sappiamo segnare cioè se andiamo a vedere le statistiche di gol fatti raga la Juventus è praticamente sotto cioè raga la Juventus è uno dei peggiori attacchi della Serie A tra il sesto e quinto peggior attacco e questa cosa ci può anche stare perché hai venuto l'alto in ultimi giorni del mercato o lo vendi prima o non lo vendi l'hai rimpazzato con Ken che non lo so raga lì davanti è Morata che ti sta facendo niente Chiesa e Dybala che è uno dei pochi che sta segnando insieme a Chiesa la cosa che mi rende tra virgolette felice è che abbiamo veramente preso pochi gol e questa cosa mi rende molto molto contento perché siamo praticamente la quinta quarta miglior difesa per essere setti, ottavi e tanta roba raga quindi sulla difesa raga siamo a posto l'anno scorso raga il problema era sia l'attacco e la difesa ma raga l'attacco non era male l'anno scorso cioè abbiamo veramente fatto poche partite dove abbiamo segnato l'anno scorso il problema era la difesa quest'anno è l'inverso la difesa consolidata tra virgolette l'attacco è il problema il fatto sta che come dicevo prima il pareggio ci potrebbe tranquillamente stare l'Atalanta non meritava la sconfitta e nella vittoria un pareggio mi sarebbe anche andato discretamente bene perché l'Atalanta sarebbe a 26 punti e noi saremmo a 22 quindi solo 4 punti di distanza adesso siamo a 7 punti di distanza una cosa che mi fa mesmerare è che la Juve può tranquillamente vincere tutte quelle partite ovviamente riga saranno complicate soprattutto mi preoccupa quella col Venezia quella con la Salentana anche e soprattutto il 3A quella con il Bologna queste 3 mi preoccupano principalmente però non ci dobbiamo abbattere ma questo lo dirò nel video di penso che uscirà lunedì che vuol dire sarà un video molto serio ecco e che dobbiamo credere nei giocatori ovvio raga ci sono molti giocatori che non sono fortissimi cioè non sono giocatori da Juve secondo me la più raga si è trasformato in ben d'accordo l'anno scorso Alessandro stava ritornando a non essere Alessandro quello che avevamo visto nei primi giornate di campionato perché aveva iniziato alla grande poi anche lui si è perso ma un conto Rabiot un conto Alessandro da Rabiot non lo posso ben capire perché Rabiot ha 25 anni ha ancora tranquillamente 12-13 anni di cadere davanti e diciamo che è meno non è molto accettabile mentre per Alessandro lo potrei anche capire perché inizia per una certa età e io se fossi in a Juve lo manderà anche via ma su Alessandro lo posso anche capire devo essere sincera la più sbaglia troppi passaggi semplici se vogliamo chiamarlo così ovvio a Bio ci sono delle partite in cui gioca bene però questa dove gioca l'Argonia mi fa infuriare sia dove lo mette Allegri che lo stesso Allegri ho visto su Instagram Giuse che lo ringrazio a caso che aveva messo Allegri e Desa io ho visto l'Amaggio che avrà buttato sì ovviamente quelli che avranno buttato sì saranno solo quelli tifosi che non sono tifosi almeno per quanto mi riguarda però raga è inutile cioè Allegri va dato tempo io a maggio quando Pirlo andò in Champions League avevo detto che il canone non è ancora attivo ma Pirlo lo mando via solo se arriva uno tra Allegri e Sida se no io Pirlo lo confermavo perché? perché Pirlo nella prima metà aveva fatto vedere cose disastrose secondo me e poi già da non lo so febbraio marzo se vi ho visto una cosa diversa per fortuna il Juventus si è qualificato la Champions esclusivamente almeno il 60% è stata la fortuna il 20% è stata anche sfortuna perché ci sono state partite sfortunate per la Juventus il 20% è stato degli infortuni e anche che Napoli non ha vinto l'ultima giornata ecco avrei tantissimo cosa via che io ovviamente lunedì però raga è inutile vedere la classifica non ha assolutissimamente senso perché noi dobbiamo pensare a partita per partita Allegri non è assolutamente desonero non voglio ancora tenere per tanto tanto tempo però raga si vede che Allegri non è quello di Vanipa per due motivi raga la formazione è completamente strana ogni partita che guardo miramento un sacco sulla formazione Allegri di due anni fa tre anni fa non era così cioè c'è una formazione molto più bilanciata questa Juventus non è che ha fatto entrare tipo ehm Caio di Orge ehm fatemi ricordare Ken e poi giocava con davanti chiesa e Dybala quindi la Juventus è tutta sbilanciata e si vede che Allegri ha bisogno di tempo secondo me in questo video lo intitolerò tempo allora la Juventus ha bisogno di tempo sono deluso triste vabbè Allegri non è quello di una volta lo sappiamo ovviamente perchè deve appunto avrà bisogno di un po' di tempo quindi ragazzi sono contento che abbiate visto questo video è durato veramente tanto e avrei molto più da dire ma vedrò il video di lunedì perchè ragazzi più cioè quando sono deluso ho molte più cose da dire rispetto a quando sono felice è una mia intenzione ma comunque raga ho pianto per qualche secondo perchè ci sono esasto malissimo soprattutto però bisogna alzarci e come sempre forza Juve l'escrizione è un'escrizione per la vita